segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te enti ma già questo però è un elemento di valutazione cioè tu dicevi non è un inedito e proprio perché non è un inedito però uno dice organizzati brava e c'è la volta scorsa la proclamazione di solinas avvenne dopo sono sbaglio 60 giorni e oggi alle ore 7 ci sarà la cosiddetta tagliola no cioè i dati vanno la corte d'appello poi non pariscono dei radar e lo sapremo probabilmente più avanti beh insomma non è da paese del terzo mondo questo modo di diciamo e c'è già una responsabilità a di chi dopo che si è verificato la volta scorsa non è intervenuto e dal livello locale fino diciamo anche al viminale diciamo cioè io voto io cittadino voto e poi il risultato non so c'è un elemento anche che svilisce la democrazia